Presentato ieri a Biceglie lo sportello del microcredito e autoimpiego da parte del Comune di Biceglie, il nuovo servizio che l'amministrazione dedica ai cittadini per un'informazione puntuale sui programmi di microcredito e gli incentivi all'autoimpiego disponibili sul territorio e a livello nazionale per l'avvio di una piccola attività autonoma. Lo sportello fa parte di una vasta rete creata dall'ente nazionale per il microcredito in collaborazione con altre 90 amministrazioni che hanno aderito al progetto MicroWork. I dettagli nel servizio. Microcredito e MicroWork, due progetti, due iniziative del Comune di Biceglie a sostegno dell'autoimprenditorialità. Di cosa si tratta e perché? È un ufficio istituito presso il Comune di Biceglie che fa da giusto pandano rispetto all'altro ufficio, quello lavoro che abbiamo voluto per sostenere le politiche del lavoro nella nostra città. E quindi così come invitiamo i cittadini che hanno bisogno a partecipare ai nostri bandi per borse lavoro, tirocini che servono un po' da ammortizzatore sociale, un po' per fare anche le manutenzioni della città, così ci occupiamo di quelli che possono essere i lavoratori autonomi, gli imprenditori, i piccoli imprenditori che molto spesso sono sprovvisti di tutela, non vengono orientati, qualche volta cadono nelle mani dell'usura, con le logiche e conseguenze che sono terribili, per cui un'istituzione pubblica come il Comune di Biceglie si è preoccupato di organizzare questo, non soltanto convegno, ma una vera e propria struttura che verrà regolamentata insieme all'incubatore di impresa virtuale, per aiutare le piccole imprese, orientarle nei finanziamenti, nei piccoli finanziamenti, e perché no, anche a partecipare a bandi dove il Comune potrà partecipare direttamente anche a sostenere questo procedimento e questi percorsi di erogazione anche di piccole somme, secondo naturalmente le norme di legge. Oggi purtroppo il problema di tutti quanti problemi è il lavoro, però molto spesso questi cittadini possono essere esclusi per motivi finanziari dal lavoro. Con questo sportello noi intendiamo, attraverso un progetto che si riconduce al Ministero del Lavoro e che poi porta avanti delle direttive europee e nazionali, intendiamo aprire uno sportello di ascolto che metta in condizioni questi cittadini in disagio sociale di poter sviluppare delle proprie idee nel settore della propria occupazione. In che cosa consiste questo progetto MicroWork? Allora, MicroWork nasce da un'esperienza di partenariato tra l'ente nazionale del microcredito e il Ministero del Lavoro per andare a indirizzare e utilizzare anche il microcredito come politica attiva del lavoro per facilitare l'inserimento occupazionale con eventuali lavoro indipendente, quindi con lavoro autonomo, con autoimpiego. Quindi il Ministero del Lavoro ha finanziato, nell'ambito della programmazione 2007-2013, il progetto presentato dall'ente nazionale del microcredito, il progetto MicroWork, fare rete per il microcredito e l'occupazione, proprio con questa finalità, cioè iniziare ad implementare sul territorio nazionale il concetto di politica attiva del lavoro associata anche alla microimpresa, alla microfinanza e all'autoimpiego.